Buonasera a tutti e bentornati. Ci rivediamo qui dopo Spalla-Carrarese, partita terminata con un pareggio sullo 0-0. La squadra di Mimmo Di Carlo, dopo questo importante pareggio, conquista così un punto e sta la quota 36 in quindicesima posizione della classifica, più due dalla zona play-out dove si trova l'Ancona che sarà proprio la prossima avversaria della Spalla. Questa sera sono qui con noi per commentare la 33esima giornata di campionato. Luigi Moretti, presidente della Palacanestro Quattro Tori. Buonasera. Buonasera. Franco Fabri, ex difensore della Spalla. Ciao Franco, ben ritrovato nelle sedi di Telestense. Buonasera. E Niccolò Govoni di Estense.com. Buonasera, grazie per l'invito. Vi ricordo che per stare in contatto con noi potete sempre scriverci i vostri messaggi su WhatsApp al 342 017 6235, suggerci sul sito di www.telestense.it o sulla diretta Facebook di Telestense o Telestense Sport. Tra poco ci raggiungerà anche Massimiliano Duran che parlerà del Memorial che si terrà tra pochi giorni proprio nella città di Ferrara. Alessandro, noi ci rivediamo qui appunto dopo questo punto importantissimo, sicuramente un pareggio che fa morale, poi contro la terza in classifica è stato proprio un punto importante. Buonasera a tutti voi. Prima di iniziare a parlare della situazione in casa a Spalla vorrei, lo faccio con tanta amarezza nel cuore, ricordare la scomparsa di un amico prima di tutto, di Alfredo Corallini stimato, professore universitario, ma soprattutto stimato nel mondo dello sport. Per una cinquantina di anni, tra l'altro proprio pochi mesi fa, si è festeggiato il cinquantenario della nascita dell'ACRI San Luca San Giorgio. Alfredo Corallini per tutti quintino era stato tra i fondatori dell'ACRI San Luca San Giorgio, aveva retto sempre le fila di questa società che ha iniziato con il calcio proprio nel campo che Corallini e i suoi amici hanno eretto, il caso di dire, dalle macerie di via del campo e poi questa polisportiva si è allargata con in particolar modo la pallavolo e sono centinaia i ragazzi che hanno indossato le maglie rosso-blu di questa società. Lascia un vuoto per la sua famiglia alla quale siamo molto, molto vicini, ci spingiamo con loro in un caloroso fraterno abbraccio, ma lascia anche un grandissimo vuoto nello sport di casa nostra. Lo sottolineo, lo posso testimoniare, con testimonianze dirette, oltre che essere stato un grande dirigente, è stato anche un dischetto calciatore nel mondo dilettantistico di casa nostra, ma solco astuto è stato un educatore per i tanti e i giovani che ha fatto crescere. Quintino, io ti chiamo così perché ti ho sempre chiamato in questo modo, da quando avevo 8-10 anni ho avuto modo di conoscerti e di apprezzarti, ti abbraccio con cuore, ma soprattutto con grande, grande estima. Mi auguro, questo vale per tutta Ferrara, che il solco tracciato sia seguito da tanti, tanti di questi ragazzi che sono stati al tuo fianco, tanti di questi giovani che hanno iniziato come atleti e poi sei riuscito anche a coinvolgerli, a livello dirigenziale, coinvolgerli in quel mondo del volontariato che è indispensabile per far crescere, per tenere in vita in particolar modo le società dilettantistiche di casa nostra. Ciao Quintino, domani l'ultimo saluto, poco dopo le 14.30 presso la chiesa di Santo Spirito in via Montevello. Dunque la spalla ha conquistato un buon pareggio a mio giudizio, risultato importante, visto che le dirette rivali a partire dalla Vispesero e dall'Ancona invece non sono riuscite a muovere la classifica e oggi ci sono due punti da gestire in questa ultima fase del campionato, ci sarà tanto ancora da soffrire e questo è un messaggio che lanciamo ai ragazzi di Limo Di Carlo a combattere, perché Franco Fabri non sarà certamente facile riuscire a mettersi alle spalle cinque squadre, anche se c'è sempre quella scappatoia, noi vorremmo evitare ad arrivare a dover puntare a quell'obiettivo del quintultimo posto con nove punti di vantaggio sulla penultima. Sì è vero, ogni partita adesso è una finale, è un peccato per aver perso dei punti, dato per dire a Ponte D'Era, è un peccato, un sabato con la Carresi hanno fatto secondo me una discrata partita, si è messo in mostra un ragazzo che non si sapeva chi fosse, questo ragazzo qui, Nador, molto bravo, ha fatto sentire la sua presenza a metà campo, ha giocato, non ha avuto paura, ha tirato anche una sassata in porta che è uscita di ogni ente, ha fatto una bella prestazione. Un altro che è piaciuto molto è stato Del Monte, perché lui notte che è uno dei pochi, è stato l'avversario, uno che si è andato a fare anche molto nella fase difensiva, è un ragazzo che è un ragazzo, anche lui ha qualche anno, però è un giocatore che mi piace, l'impegno che ci mette, chiaramente guarda che vuota, può essere anche un pochino poco lucido quando arriva sul sottopore, che prima fa una fatica abbastanza importante. Tra una cosa e l'altra, Mimbo Di Carlo ha dovuto fare i conti con più di dieci assenze, perché ricordiamo Contigliano che è entrato a gare in corso e era influenzato, così come Zilli che invece è rimasto in panchina, poi durante la partita si è infortunato pure Fior d'Aliso, dovrebbe essere in grado di recuperare per la trasferta di sabato a Ancona, quindi la Spala è partita un po' contratta, perlomeno la sensazione che abbiamo avuto dall'esterno nei primi dieci, quindici minuti che ci fosse un po' il timore, anche perché la Spala si trovava di fronte a quella che è la terza forza del campionato e c'era da rabbrividire vedendo la classifica. 25 punti di differenza tra la squadra di Mimbo Di Carlo e quella invece di Calabro. Ma tutta questa differenza, in queste categorie difficilmente si nota. La Spala adesso è una squadra, è una squadra che gioca, è un peccato aver perso dei punti prima, quello è un peccato, adesso sei un pochino più tranquillo e più sereno, riesci a fare delle giocate che adesso non fai, cerchi di fare sempre semplici giustamente, però è una squadra. Secondo me ha dei giocatori, anche Sirigardi che sta bene, insomma quando entra e fa sentire la sua presenza, comunque si vede una squadra che gioca. Devono stare attenti alla fase difensiva e quello è fondamentale, perché dopo se prendi il gol, dopo recuperare, fai fatica, poi ti viene la tensione, ti viene che passi il tempo e dopo diventa un problema. Vediamo, sabato può essere un passaggio molto importante. Se non determinante. Noi lo speriamo perché qualora diventasse determinante sarebbe perché la Spala sarebbe riuscita a portare a casa i tre punti, metterebbe cinque punti tra sé e l'Ancona. Nicolò, che impressione hai ricavato della prestazione della Spala con la Cararese? Beh, timore reverenziale all'inizio sicuramente, perché la Cararese alla fine da quando è arrivato Calabro non aveva mai perso, quindi parliamo di un bel po' due... 11 risultati consecutivi, 12 con quello di Sabato, quindi è la seconda migliore difesa del campionato e comunque anche sabato è uscita senza subire gol dal Mazzar, però tutto sommato la squadra ha giocato, secondo me, mantenendo il buon momento dopo il ritorno di Di Carlo, nel senso che adesso rimpiangiamo quella fase buia che c'è stata da ottobre al ritorno di Di Carlo. È un peccato perché secondo me questo dovrebbe essere un campionato normale, una prestazione normale della Spala che a questo momento sarebbe provente una zona tranquilla play-off. con i secondi in mano non si fa niente, c'è solo da ramaricarsi, rinvocarsi le maniche a difendere questi due punti senza pensare a play-off e mantenere la posizione che c'è adesso. Si torna al discorso che abbiamo fatto tantissime volte in questo periodo, la Spala su cui oggi può contare Di Carlo è ben diversa sia come qualità che a livello numerico rispetto a quella su cui lui aveva potuto fare affidamento nel periodo che poi lo ha portato all'esonero e soprattutto quella su cui aveva potuto contare il suo successore, Leonardo Colucci. Perché qui tra il recupero di infortuni e il mercato di gennaio ci troviamo come una squadra del tutto nuova. Sì, quello degli infortuni è stato un filo rosso un po' di tutta la stagione, quindi sfortunato anche da quel punto di vista, anche perché tutti i traumi casuali, diciamo così, mi viene in mente anche partiamo prima giornata, si fa male Sizz e rimaniamo senza punta fondamentalmente. Anche se io sono sempre a dire che Sizz non è una prima punta. No, però, insomma, se ci facciamo giocare Antenucci potrà giocare Cianclui, ecco, mettiamola così. Diciamo che poteva essere un buon supporto Antenucci. Ecco, diciamo così. Il problema è che c'è stato proprio un calo, per fortuna la dirigenza è intervenuta a gennaio, per fortuna ha richiamato Di Carlo, che per fortuna ha accettato di tornare perché magari non tutti al suo posto avrebbero accettato, insomma, dopo quello che è successo. Lo desiderava, lo desiderava tantissimo. Lo voleva, era l'unico, lo voleva, evidentemente aveva delle idee per fare bene, si sta vedendo in campo, poi è chiaro che comunque qualcosa è scattato anche in testa nei giocatori perché secondo me prima c'era proprio un impedimento mentale a giocare, a prescindere da infortuni o no, a prescindere da questo giocatore o quell'altro, secondo me c'era proprio un problema forse anche di comunicazione interna. Gigi, tu da tifoso ti interpelliamo sotto questo aspetto, che impressione mi hai ricavato di quello che è stato e di quello che è oggi per quanto riguarda la SPAL? Beh allora, sono tifosissimo, io tifoso della SPAL, punto, non del Milan e della SPAL, dell'Inter, io sono tifoso della SPAL. Ti dirò, sono abbonato come da sempre, ultimamente per impegni con la Quattro Torri, non sono andato allo stadio, però... Ma non solo per quello, perché io e te ci parliamo, se non quotidianamente... Ci sentiamo spesso. E spessissimo, in te è maturata quella amarezza che ha allontanato molti, Ferraresi, che non voglio dire che tifosi, perché il tifoso vero poi non ha mollato, eh? Certo, il tifoso vero... Tu qualche sera quest'inverno mi hai detto, me ne sto a casa, al caldo me la guardi in tv, perché non c'ho voglia. No, ma anche perché vedere la tua squadra soccombere mi fa proprio star male, mi fa star male e quindi chi è più bravo di me sicuramente riesce a sopportare, a dare il proprio contributo, incitare ed è così che bisogna essere. Io forse lì sono un po' più debole, però dico che la squadra è stata, che la società, la squadra è stata sfortunatissima, perché avere dodici, quindici giocatori fuori, voglio dire più di così, che cosa puoi dire? Altre situazioni, decisioni un po' troppo avventate forse, queste hanno fatto sì che si creasse questa situazione, questo malessere. La società non si sente, poi magari è in dietribo un po' con il tifo, il tifo è molto importante a Ferrara, una società che ha dimostrato che vuole fare, perché altrimenti non faceva la campagna acquisti che ha fatto, sia a inizio anno che a gennaio, quindi ha dimostrato che ci tiene, però forse non è riuscita a legare come doveva con i propri tifosi. Una squadra che comincia devi dargli il tempo di maturare, dappertutto, questa non ha avuto il tempo perché ha avuto tanti infortunati, però anche dalla parte della società, e qui mi riferisco solo al Presidente, perché il direttore generale, il direttore sportivo sono dei professionisti validissimi, sicuramente. Quello che è mancato secondo me è stato da quel famoso gesto, purtroppo lì si è rotto qualcosa e quando non c'è sintonia tra la curva, i tifosi e la società e la squadra difficilmente arrivano i risultati. Questo è un peccato, è un peccato perché magari andava interpretato meglio il ragionamento del rapporto con il pubblico, io la vedo così, come tifoso, non mi azzardo a parlare di tecnica perché non è il mio mestiere, io ho un'idea, anch'io però non ne voglio parlare. Qual è la tua idea? Esprimila la tua idea. La mia idea non la esprimo perché potrei dire delle cose sbagliate, dico solo che la squadra vera si sta cominciando a vedere adesso e dobbiamo augurarci tutti di salvarci, ecco quindi dico anche che certe decisioni affrettate non andavano prese, la dimostrazione è l'allenatore ma anche l'anno scorso, l'anno scorso bisognava salvare la categoria, non puoi cambiare tutti quegli allenatori e questo è quello che è mancato perché se ti salvavi era un'altra cosa, i contributi erano diversi, cioè giocavi in Serie B, la SPAL, noi tre anni fa eravamo in Serie A ragazzi e questa è la cosa che nessuno mai al mondo avrebbe pensato, di poter tornare a giocare in A e dopo così poco tempo ritornare nei bassi fondi di una Serie C che insomma non c'è niente a che vedere con la Serie A ovviamente, quindi è questa l'amarezza che ci ha preso, però dall'altra parte al mio giudizio non c'è stata la volontà di dire dai leghiamoci tutti assieme, faccio un passo indietro io, non è stato fatto quel passo indietro, che riferisce al passo indietro che secondo te doveva fare il Presidente? Il Presidente, chiede scusa, può succedere in un momento di incavolatura generale, tu fai un gestaccio, loro non te lo perdono, però dopo ci sono tutti i modi per provare a rapacificare e questo non va bene, non va bene perché Ferrara non è una città, non è Milano, non è una grande città, è una città dove si vive e si mangia spal e pallone, insomma, è lo sport della città, quindi tutti amano questa società e vorrebbero, infatti il Presidente quando è arrivato qua a Ferrara con l'obiettivo di prendere una società e poi cederla come ha fatto in altre situazioni, Roma, Venezia, Bologna, ha sempre avuto un gran successo lì, no? Non è riuscito Ferrara, però lui ci ha provato, quindi sapevamo che il suo obiettivo era quello, però mi sembra sia stato accolto benissimo questo Presidente, lui non poteva girare che gli chiedevano gli autografi, insomma, bellissima situazione, a un certo punto si è rotto qualcosa e non è stata per niente gestita questa situazione come doveva, la mancanza di un Presidente si sentirà sempre, un Presidente deve essere presente, è inutile che ce la raccontiamo, poi lui per motivi professionali non può essere qua perché allora deve dotarsi di una persona di sua fiducia che sia il Presidente in pectore presente, che abbia carta bianca, solo così, che abbia carta bianca, certo, solo così, ci sono tanti casi, il Bologna, ha saputo, è presente adesso, altre situazioni, non può essere il Presidente assente, poi dopo hai dei collaboratori bravissimi, ma quando purtroppo contano fino a un certo punto per quello che è la loro responsabilità, ma anche il Presidente. Anche perché poi con una personalità tipo quella di Giorgio Taccopina è difficile poi assumersi delle responsabilità e prendere delle decisioni, Taccopina essendo oltreoceano trovandosi a migliaia di migliaia di chilometri di distanza non può percepire la realtà quotidiana, sia per quanto riguarda quello che avviene in via Copparo, quello che avviene in campo, sia per quanto concerne la situazione con la città, i rapporti con la città. Non voglio fare un paragone perché forse sarebbe anche un po' fuori luogo, ma con Mattioli, Mattioli era presente 24 ore su 24, io ero con lui in tribuna e sentivo che urlava ai suoi ragazzi. Nonostante non fosse il proprietario. Esattamente, questo è il caso, no? Quindi la società era presente perché i signori Colombarini erano presenti e si vedevano, ma il vero timoniere era Mattioli e lui si faceva veramente sentire. Questo è quello che manca oggi alla società, perché i giocatori li hai, hai un budget tra i più alti in Serie C, non puoi essere qui in tutt'ultimo in classifica, con le sfortune che hai avuto, d'accordo? Però è questo che... Io ho provato a spiegarlo al Presidente questo, però ovviamente ognuno ha le proprie idee ed è giusto perseguire le proprie idee, per l'amor di Dio. Però secondo me mancherebbe questo. Come non saresti probabilmente retrocesso l'anno scorso. Capodito di Presidenti, hai passato la mano? No, ho passato la mano nel senso che ho trovato nuova linfa per la Quattrottori, dopo 31 anni ci si può anche un po' stancare, diciamo così, quindi ho voluto dare la Quattrottori in mano a gente appassionata, sono entrati 8 nuovi soci, abbiamo un consiglio direttivo composto di 13 persone, mai successo nella Quattrottori una cosa così, io cercherò di stare al loro fianco, gliel'ho promesso e lo farò, ma non ho bisogno di prometterlo perché viene naturalmente e vediamo di fare bene le nostre cose perché la Quattrottori se lo merita, sono una società storica, è un gruppo molto ambizioso, è un gruppo che sa stare con i piedi in terra, giovani, dovrò tenerli un po' a freno, però spero di poterli trasmettere quello che ho imparato in questi 31 anni di gestione. Ecco, hai parlato di gruppo ambizioso, per cui da intuire che abbiate già iniziato a guardare al futuro? Cosa bolle in pentola? Ma no, guarda, al futuro ci si guarda, loro sono una società, sono imprenditori di Ferrara con un'ottima, una bellissima azienda. Ma possiamo, non ci sono problemi di sponsorizzazione, possiamo ricordarla? La F Costruzioni, che quindi lavorano nel campo edile, sono appassionati proprio della pallacanestro, quindi quello che bolle in pentola, Sandro, è cercare di fare dei programmi, un progetto, perché a certi obiettivi devi arrivarci gradualmente, quindi con un progetto di tre anni, dove il primo anno parti, il secondo ci provi e il terzo devi arrivare, per provare ad arrivare il più in alto possibile, secondo quelle che sono le disponibilità e le risorse che riesci a reperire sul territorio e quello che serve, insomma, ecco, quindi niente di che. Continuare a mantenere, si è iniziato questo rapporto di collaborazione tra le società e vogliamo continuare a mantenerlo, un rapporto sano di collaborazione che possa portare dei benefici a tutto il movimento. Nel frattempo, la 4-2, mi riferisco alla prima squadra, perché poi c'è un grande lavoro sotto il profilo del settore giovanile, è riduce da 12 successi consecutivi, dopo un avvio un po' altalenante. Vedi, anche lì abbiamo avuto degli infortuni, abbiamo avuto dei problemi, però alla fine la società è rimasta serena, compatta, ha tutelato il proprio allenatore e alla fine vedi che i risultati poi arrivano, per cui è un ottimo gruppo di ragazzi, tutti amici, non sono professionisti i nostri, però ci tengono, mi hanno fatto una promessa, noi non ne perdiamo più neanche una. Adesso ho detto questo, vedrai che la prossima partita perderemo, per cui. Però sono contentissimo, felicissimo e se vinciamo il campionato siamo molto felici, insomma. Poi cosa ci propone a fine aprile? A fine aprile c'è la ciliegina sulla torta di questo entry level tournament, è un torneo di ragazzi under 13, unico in Europa, unico in Europa, dove partecipano otto selezioni, le cui prime squadre fanno tutte l'Eurolega di basket e quindi formazioni importantissime, se ne sta parlando, abbiamo sui 300.000 followers che ci seguono, quindi ci sarà l'Olimpia di Milano, la Virtus, le uniche due squadre italiane che giocano in Eurolega, poi il Barcellona, il Bayern Monaco, il Panathinaikos e la Stella Rossa. La Reier che fa l'Eurocup si è aggregata, in più c'è una selezione dei migliori talenti europei dove sono riuscito a far inserire quattro ragazzi di Ferrara in rappresentanza delle quattro società giovanili, quindi Quattro Torri, SBF, VIS e Argenta. Questo è un altro risultato per dare un segnale, per far fare a questi ragazzi un'esperienza che resterà sicuramente nelle loro menti per sempre ed è anche un modo di dire che anche Ferrara sta facendo qualcosa. La prospettiva è che questo torneo diventi itinerante, quindi il debutto di quest'anno è a Ferrara, si chiama Entry Level Tournament in città di Ferrara, ma il prossimo anno potrebbe essere ad Atene invece che a Belgrado, a Barcellona. Aspetterebbe sempre a te il conflito di tirare un po' le fine. Assolutamente sì, questo è quello a cui sto lavorando in accordo con Eurolega, insomma. Dobbiamo mettere questa cosa che abbiamo già, il gruppo di lavoro, siamo in una decina, Nicolò è qua presente, il nostro addetto alla comunicazione è bravissimo e quindi ci stiamo impegnando tanto e crediamo che venga una cosa bella, veramente. Tenendo per chiudere Gigi, poi ti lasciamo anche perché sei stato ospite dei nostri colleghi di Maschettini, un occhio di riguardo alla tua società, visto che per decenni sei stato alla guida della Quattro Torri, che è una delle società spalaparte più antiche della nostra città. 75 anni e 31 di presidenza, per cui sicuramente come ho detto prima, io cercavo, la Quattro Torri ha 31 anni, la mia presidenza e quindi è più vecchia dei miei figli, quindi la ritengo una figlia, quindi ho cercato un principe per la Quattro Torri, spero di averlo trovato, credo di sì, era da un po' che lo cercavo e quindi cercherò di stare a fianco e di metterli sulla giusta via, comunque dare quell'esperienza che ho accumulato in questi 30 anni e trasferirlo a loro. Ma ti dico, è un gruppo che mi piace tantissimo, tranquilli, sono molto carichi, però calma. Il nostro motto è piedi per terra e testa tra le nuvole. Noi Luigi ti ringraziamo per essere stato qui con noi e ti salutiamo. È stato un piacere. È stato un piacere nostro, grazie. Luigi in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo, grazie. Noi invece adesso andiamo in pubblicità, ci rivediamo qui tra pochissimo. Bentornati, vi ricordo il Caffè Crifi che dal 1961 entra nelle case degli italiani, grazie al suo Roma, unico, inconfondibile. Intanto c'è raggiunto negli studi di TeleSense anche Massimiliano Duran, ex campione del mondo di pugilato e allenatore della pugilistica padana. Ciao Massimiliano, ben ritrovato. Ciao, ciao Carlotto. Alessandro, intanto stanno arrivando tanti messaggi, ne leggiamo qualcuno, dicono sabato buona partita, abbiamo stretto i denti, eravamo in emergenza e abbiamo tirato fuori il carattere. Antenucci è uscito arrabbiato, quindi vuol dire che ci teneva a fare una buona prova. Un altro messaggio, Contigliano quest'anno fa fatica a essere incisivo, anche se da sempre il massimo, secondo voi perché la sua stagione non è decollata? Cosa ne pensate? Anche iniziamo dall'affermazione di questo tifoso della spalla, che dice finalmente la squadra ha tirato, forse finalmente l'ho aggiunto io, non c'è finalmente. Non c'è finalmente, abbiamo tirato fuori il carattere. Ha tirato fuori il carattere. Sì, effettivamente non è che si vede una partita spettacolare, però si è vista una partita attesa, come è normale che sia, adesso poi come si diceva prima, adesso ormai le partite sono tutte finali. È chiaro che un po' di tensione c'è sempre, sempre paura di sbagliare un passaggio, paura di fare un dribbling che capita poco. Ora questa tensione tra i porti dietro fino alla fine del campionato. Però domenica, c'è sabato, hanno giocato secondo me una gara attenta, non hanno creato moltissimo, però non hanno subito moltissimo dietro, non hanno dato occasione agli altri di poter tirare in porti, di fare gole. Perché purtroppo, ma questo è un problema secondo me generale, non solo della spagna, la fase difensiva la fanno quasi tutti male. E poi vorrei sempre rischiare i partiti da dietro, come abbiamo visto anche ultimamente dei giocatori molto più forti, fare degli errori così gravi. Abbiamo visto la nazionale. Tant'è che ho sentito un'intervista a Spalletti il quale ha detto, il giocatore deve capire, e qui parliamo di giocatori della nazionale, giocatori con esperienza internazionale, praticamente Spalletti ha detto, ma questi ragazzi non capiscono la situazione, il momento, ovvero quando si può ripartire dal basso, quando invece è il caso di liberarsi di quel pallone. Ora qui mi viene in mente una cosa, questi ragazzi qua sono dei soldatini che fanno quello che gli dicono, oppure ragionano con la propria testa, cos'è? Cioè per il giocatore deve, è chiaro c'è un autore che è importante, però vale il 10% della squadra, che è importantissimo, però tu da giocatore devi poter fare la tua personalità, non puoi pensare di giocare dentro l'area piccola col portiere, che è lui che fa il regista, io quando vedo queste cose qua, io divento matto, cioè non puoi in C fare quelle cose lì, perché in C puoi tornare a dei giocatori che ti risolvono la partita, non ci sono più quei giocatori lì, io ti faccio un esempio, quando giocavo io in C, nel Perugia, il tiro d'attacco del Perugia era Rambaudi, Ravanelli di Livio, adesso li trovi in C, questi giocatori, quel tipo di giocatori, non ci sono più. Fatichi, basta guardare che il centro avanti del nazionale è tutto sommato in argentino. C'è, una volta c'erano dei giovani che andavano in B e andavano in A, adesso non ci sono più quei giocatori lì, adesso sono dei giocatori normali, mediocri e i difensori non sanno far difendere, ora per me è un portiere per farle a parare, i difensori devono sapere difendere, quando c'è la staccarsi, quando c'è da in anticipo e come affronti l'avversario uno contro uno. E' così che si impara a giocare a calcio, impara a difendere, se tu non prendi gol, fai dei punti, tu non puoi prendere gol a Ponte d'Era, manca 20 secondi alla fine perché fai uno stop all'intera l'area. Si è ripetuta la situazione di Carrara, la situazione analogha, palla scoperta e... Tu non puoi, è capitato anche a De Molto, però manca 20 secondi alla fine, buti la fine, finissi il primo tempo con 1 a 0 e lì puoi anche darci che potevi tornare a casa con dei punti che ti vuol dire salto di Salvezza. E questo è, bisogna essere pragmatici delle cose, specialmente in queste categorie, non hai fenomeni, non puoi giocare, perché io devo dire il portiere che gioca a lui, e poi lancio lungo, allora farò fare a un difensore, farò giocare a Pisto che la vai a prendere e poi la vai a prendere e poi fai la seconda palla. Cioè io vedo delle cose, ma anche in Serie A, delle cose, ma è proprio degli errori tattici. Non puoi marcare l'avversario, alzare l'avversario a parte interna del campo e tu come difensore stai esterno. Tu devi essere all'interno tu, non all'esterno tu e all'interno c'è l'attaccante. Se ti parti prima non lo prendi più, e la spalla prendi i gol così. Sì, ma parliamo di spalla, vedi dei giocatori, dei giocatori importanti, che gioca in nazionale, perché insegnano tutti adesso a proporre, ma prima di saper fare l'uno e l'altro. Prima di saper fare difendere, e poi se se fai l'altro tanto hai guadagnato, ma prima di saper fare difendere, i campionati di C, di B, li vinci, se incassi meno, se tu prendi meno gol. Io con l'Ancona, che abbiamo giocato sabato, abbiamo preso per 1200 minuti, ma abbiamo preso un gol. E quando tu non prendi il gol, porti cassa di punti. Intanto l'autostima cresce. Poi ti viene anche la giocata più semplice. Tenti anche un debito in più. Io in più domenica, ho visto sei anni, che ha fatto una buona gara, rischietta gara, però ha avuto due o tre occasioni che può andare sull'uno contro l'uno. Finta, poi tanti indietro. Perché forse un po' la paura, poti, insomma, tante cose. C'è anche questo, dire la seconda partita. Appunto, ma questo voglio dire, se tu avevi 10 punti in più attentato, forse, questa stranità in più, se tu non ce l'hai, se non ti insegnano da bambino a fare queste cose qui, quando sei grande non ce l'ha mai più. E che noi, purtroppo, siamo liberi i ragazzi di giocare con la loro testa, con la loro qualità. E questo è il punto. E quando arrivi a 20 anni, se non hai imparato prima, non imparare più a fare queste cose. Niccolò, anche il discorso del carattere che la squadra ha tirato fuori un po'. Sì, sicuramente un elemento di esperienza che, non so, non sappiamo già come andrà finita questa stagione, quindi, però, chi rimarrà l'anno prossimo, non lo so, però un elemento di grossa esperienza sarà appunto questo. Vale a dire, in queste categorie, meno tocchi di fino, ma più concretezza, sicuramente, e le ultime partite lo stanno anche dimostrando. E anche passo, hai visto Nador, è entrato a una certa fisicità, a un certo passo, e sabato, secondo me, è stato il miglior in campo. Nador ha fatto una partita impressionante, secondo me, sabato, perché buttato nella misca è una partita così difficile, è una partita difficile, guardando la classifica, guardando non tanto i valori singoli in campo, ma proprio la forza delle squadre che mi sembra evidentemente diversa, perlomeno per quanto ha fatto vedere questa stagione, e ha fatto una partita impressionante, perché forse è anche un po' il giocatore che mancava lì in mezzo alla spalla, perché tutto l'anno che, diciamo, l'attacco ha fatto sempre fatica, la difesa ha avuto tanti alti e bassi, il centrocampo è sempre stata una delle note negative con tutti i giocatori, tendenzialmente, se non so, cioè, ne abbiamo imparato spesso, il centrocampo ha fatto sempre fatica quest'anno. Era mal assortito. Esattamente. Nador ti porta quella d'utilità, comunque nasce come difensore, riesce a chiudere, ha un buon piede, ha provato anche il tiro, ha fatto due dribbling interessanti anche in mezzo al campo, ha una buona visione di gioco, è una partita, aspettiamo di vedere le prossime, quando e se giocherà, però, insomma, se i presupposti sono questi. Guarda, la settimana scorsa io parlavo con amici di Ancona, ovvero prima della partita di sabato, dove abbiamo avuto modo di apprezzarne la prestazione, non voglio dire qualità e doti, ma attendiamo, e mi dicevano di essere molto meravigliati della decisione che aveva preso la società marchigiana di privarsi di Nador. Vedrete che se lo farete giocare, quando arriverete qui, ci creerà tanti tanti problemi. Noi ci auguriamo che Nador sia quello che abbiamo visto sabato, tra l'altro Nador che guardiamo ha giocato una quindicina di partite nel corso del girone di andata, quindi è entrato in campo quasi sempre ad Ancona. Poi l'anno prima aveva giocato 29 partite nel Montevarchi, per cui si era già fatto un'idea di quello che poteva essere il prima della categoria. Prima di andare sui discorsi a Tenucce Contigliano che non vogliamo lasciare di sparte, vorrei chiamare in causa Momo su questo invece discorso del carattere che la spalla sabato, secondo questo ascoltatore e l'espettatore, ha dimostrato. Ma guarda, io sabato ovviamente non ho visto la partita. No, ma parliamo di quanto è necessario il carattere. Però, chiaramente, come diceva Franco prima, c'è un problema al giorno d'oggi ed è un problema che si ripercuota su diversi sport, non solo nel calcio, ma anche nel pugilato. Purtroppo si guarda più alla forza fisica e alla preparazione atletica della preparazione tecnica. La preparazione tecnica diventa fondamentale nel calcio in tutte le categorie, però è ovvio che in Serie C non puoi pretendere che siano uguali alla Serie A, ma sono ragazzi che teoricamente dovrebbero crescere, dovrebbero fare esperienze e andare avanti. Il fatto che comunque abbiano pareggiato con la terza in classifica è chiaramente un segnale di maturità, di tornare a credere in qualche cosa che si può fare. Quindi sicuramente come mentalità è cambiata, perché l'andazzo che avevano preso alla squadra era terribile. Anche tutto questo cambio di allenatori c'è niente da fare. Se non c'è la squadra tu puoi mettere chi vuoi a allenare, ma non otterrà mai i risultati, perché purtroppo in campo ci vanno i ragazzi. La stessa cosa vale per noi. Sono lì, non ci vado io, non ci va l'allenatore, ci vanno i ragazzi, devono essere loro i primi a capire le situazioni, a capire come muoversi, a fare determinate schivate. Non è la stessa cosa nel calcio. Cioè dei movimenti che devi fare, sono dei movimenti che devi capire anticipatamente, perché se tu parti in ritardo gli altri ti vanno via. Questo è normale. Quindi ha perfettamente ragione Franco quando dice che ci sono delle carenze notevoli. La mentalità della squadra sta cambiando, i risultati della squadra stanno cambiando, grazie a Dio. E meno male che la squadra adesso è momentaneamente fuori dal pantano. Speriamo che vada avanti così e che ci riescono ulteriormente a allungare e andare via dalle squadre che devono lottare per la salvezza. Facciamo un break con il calcio. Veniamo a parlare di Pugilato, per questo ti abbiamo invitato, Massimiliano. Venerdì 23esima edizione del Memorial Carlos Dura. Non vi fermate un istante, perché tra l'altro sei appena tornato. Quando sei arrivato dall'Albania? Sabato sera. Allora guarda, sto facendo un lavoro che mi do del matto da solo, perché veramente, a parte i costi che ci sono, che sono veramente notevoli, lo sforzo è veramente grosso, perché non ho pausa, non ho momenti di ferma, non posso fare tante cose. Però sto avendo la soddisfazione che i ragazzi sicuramente crescono. Adesso facciamo il Memorial dove combatteranno, ho cinque ragazzi, cinque professionisti, di quei cinque ce ne sono tre che sono vicinissimi al titolo italiano. A maggio farò un'altra manifestazione dove ci sarà il titolo, se riesco a vincere l'Astra, speriamo di sì, ci sarà il titolo italiano di Obaid e poi combatteranno tutti gli altri ragazzi, quindi sarà una grandissima riunione. Credo di aver riportato Ferrara come avevo promesso già due anni fa, quando avevo deciso di fare l'organizzatore a livello professionistico, di aver riportato Ferrara a un livello molto alto per quanto riguarda il pugilato. Chiaramente il mio scopo è ritornare ad essere la città di riferimento per il pugilato italiano, cosa non facile perché c'è la concorrenza di Roma, di Milano, di piastre molto più grandi che hanno magari anche molto più possibilità economiche, però io confido nel Turchia a trovare degli sponsor anche nazionali che poi dopo ci aiutino a portare avanti questo progetto che per me è molto importante. Ferrara che sta rispondendo perché non c'era posto per un ago in occasione dell'ultima riunione. Sì, sono contento perché la gente l'ha capito e poi penso che comunque quando vengono vanno fuori soddisfatti dal palazzetto. Stavolta sarà una riunione dove ci saranno due riunioni in una perché a pomeriggio… Ormai ci hai abituato a due riunioni in una. A pomeriggio ci sono… L'appetito viene mangiando ma a questo punto è il caso di dire attenzione a non fare il passo più lungo della gara. No, no, adesso guarda, a pomeriggio ho messo sette direttanti, in più proprio oggi mi si è aggiunto un combattimento professionistico fra le donne, tra le ragazze che combatterà una ragazza che è stata in nazionale e che è una delle più promettenti a livello professionistico in Italia, che era diretta Cipollone. Poi dopo alle nove ci sarà una pausa di un'ora e alle nove inizieremo con il programma professionistico maschile, ci saranno cinque direttanti, cinque professionisti, tra cui Cristofori che rientra. Questo è il match club? È il match club ma anche quello di… ci sono due combattimenti, prima sia il debutto di Barile che il combattimento di Guerini che farà il derby con un pugile di Roberto Croce che si chiama Sapone, è un grande combattimento e sono anch'io curioso di vedere come andrà a finire. Ma ogni combattimento comunque sarà tirato perché comunque anche gli avversari, ho dovuto chiamare avversari dalla Serbia, gente con grandissima esperienza, c'è uno che ha 60 combattimenti a professionista, sono gente a prendere con le molle, quindi i ragazzi sanno che dovranno dare tutto e vedremo come andrà a finire. Palca Rarese, andiamo a sentire le pagelle. Galeotti 6, pomeriggio tranquillo e padronanza nel dominare l'area quando arrivavano palloni a spiovere nella zona di sua pertinenza. Ben protetto dai compagni di reparto, mai chiamato interventi oltre l'ordinaria amministrazione. Giringhelli 6, Cicconi e Zuelli che orbitavano dalle sue parti hanno fatto la figura di comparse, assolto il compito affidato gli da Di Carlo che gli chiedeva di non concedere spazi a chi si presentava in zona. Valentini 6,5, come tutti i compagni di reparto di rado si è trovato sotto pressione, ha comunque avuto il modo per farsi apprezzare in un paio di occasioni in cui sono arrivati sotto porta palloni che potevano diventare pericolosi. Fior d'Aliso 6, al centro della difesa, ha controllato agevolmente uno spento capello. Sei anni, sei e mezzo, Zanon, che transitava dalle sue parti, ha combinato poco dei difensori più caparvio nel cercare di rendersi utile anche nella metà campo avversaria. Dal monte 6 ci ha provato e quindi gli va dato adito di essersi assunto responsabilità e anche qualche rischio non ha però trovato la giocata per l'impennata decisiva. Nador 7, sembrava un veterano, con le sue lunghe leve ha recuperato palloni su palloni e non si è fatto pregare anche quando si sono verificate le condizioni di far ripartire l'azione. Il migliore, a dispetto della sua stazza apprezzata l'agilità, stile polipo, potrebbe essere un'arma in più per il finale di stagione. Collo del 5 e mezzo, soliti pregi e difetti, corre a perdifiato, non concede tregua agli avversari che sotto pressione finiscono per sbagliare tanto, ma anche lui li imita perdendo tanti palloni. Maestro 6 parte a sinistra con licenza di accentrarsi, entra con maggior continuità nel gioco ma non trova mai il guizzo vincente. Quando inizia la girandola di cambi, Di Carlo lo sposta in qua e in là, finisce con il perdersi e si spegne. Antenucci 5 e mezzo, con la squadra che pare contratta, si trova a dover coprire una zona per lui esageratamente vasta. Non si perde d'animo ma fatalmente con il passare dei minuti gli vengono meno le energie necessarie per contribuire alla causa. Petrovic 5 e mezzo, qualche sponda ma sempre molto lontano dalla porta di Bleve e nelle rare occasioni in cui potrebbe rendersi pericoloso non trova la necessaria precisione. Siligardi 6, una mezz'oretta in cui ci prova con un sinistro dal limite che sorvola di poco la traverse con una punizione deviata in angolo dalla barriera che forse evita alla Carrarese il primo KO della gestione Calabro. Rabbi 5 e mezzo, dentro quando si accentua ulteriormente la ricerca degli attaccanti con lunghi lanci dalle retrovie, giocate che non agevolano il compito di chi si trova isolato in avanti. Franco, torniamo sui discorsi che abbiamo lasciato in sospeso in precedenza, prima di parlare con Massimiliano Duran e partiamo da quello relativo a Antenucci che se l'ha un po' presa quando è stato chiamato in panchina. Sì, ho visto la partizione, ho fatto gesto, però un attimo di erosismo ci può stare, non ha fatto nulla di particolare, ci teneva a rimanere in campo perché lui sa che può dare di più sicuramente, però è chiaro che deve essere anche supportato dagli altri, che non può da solo fare questo. quello che manca secondo me della squadra è che quando sono solo, sono sui pochi, non accorciano in avanti, non vai in avanti anche gli altri, per esempio un maestro che ha un certo tipo di qualità, dovrebbe essere più presente nella fase offensiva della squadra e dovrebbe essere più vicino gli attaccanti, lui che ha il dribbling, al tiro, al passaggio mentre porta il suo compagno, io non so se quello sia un po' di mancanza di personalità perché la punizione che ha fatto come si diceva prima, che ha tirato Ciligardi con Mancino che doveva tirare un destro, se sono io maestro vado io a calciare la punizione, non tira Ciligardi, hai capito? Vai, anche perché il maestro ha le qualità per fare, tant'è vero che c'è data fuori, sì di due metri è andata fuori. No, bene, la palla è stata deviata dalla barriera Franco, sì, comunque. Perché se passava per me la guardia. A parte quello però, vabbè si calcia con me il piede, però era lì un destro, poi il maestro lo calcia bene, specialmente palla ferma, cioè non è che calcia un altro giocatore, il maestro è che calcia veramente, anche quando calcia, calci d'angoli vedi come la palla di un bel belettese, lui c'ha il tiro e adesso la parte è sua per calciare in porta, non l'immancino. Ecco, allora lì lui ha un'età, ormai quest'anno fa 26 anni, ha detto che ha fuori la personalità, se vuole fare un piccolo salto di qualità, se vuole fare un po' di salto di qualità. E lui ha, ce l'ha tecnicamente, forse ti manca quella personalità per fare il salto di qualità. Franco è un interrogativo che abbiamo posto a tanti, da molto tempo, a tuo giudizio, qual è il ruolo ideale per il maestro per fare emergere le sue qualità, fisiche e tecniche, perché ha anche una buona struttura. Lui, secondo me, i giocatori bravi, quelli che hanno qualità, che hanno tecnica, che hanno l'uno contro l'uno come lui, devo giocare nel suo campo, non posso dare un carri larghi, a mio avviso. I giocatori bravi devono giocare lì. I giocatori più scarsi tra virgolette giocano gli stendi, tra virgolette. Infatti io giocavo alla destra, poi mi sono trasformato in un trequartista per correre ancora meno. Lui ha delle qualità, che se più è dentro, tant'è vero che quando ha giocato contro il Sessi Levante, che è stato più dentro al campo, e toccare più pallone, più tocchi i palloni, più c'è in gara, e lui ha la qualità per fare gol, per stare in porta, metti dentro, ce le ha, però devi giocare, a mio avviso, certamente, poi dopo bisogna conoscere tutta la dinamica della squadra, ecco. Però lui, con la qualità che ha lui, deve giocare più dentro al campo. esterno, non mezzare, esterno. Devo trovare un modo che lui possa essere più, per andare più al tiro. Lui c'ha il tiro, ce le ha tutte queste qualità. Però purtroppo, nel corso di questa stagione, è spesso arrivato al tiro, ci è spesso creato gli spazi e le opportunità per andare alla conclusione. Però la porta, la presa rarissimamente, l'ha centrata in pochissime circostanze. Sì, è quello che mi meraviglia, perché ho visto anche alcune partite, è sempre cacciato un po' leggermente alto, però, a parte questo, lui, a mio avviso, ha queste qualità. Lui deve, come Dalmonte, lui, quegli giocatori che hanno uno contro uno, ha quelle cose lì. Tant'è vero che lui, con il giocatore che ha avuto la spada, con il corpo di testa di Petrovic, ha dribato l'avversario, ha la messa dentro bene, poteva anche fare gol. E che lui si fa, si fa un master micadride, che deve seguire anche l'avversario sulla sua faccia. Sono quei giocatori che più dentro stanno, i giocatori che hanno quelle qualità lì, devono, a mio avviso, chiaramente, stare più partecipi, essere più partecipi nella partita. Niccolò, sull'uscita attorno al ventesimo della ripresa di Antenucci, e poi anche la tua opinione su Maestro, è una situazione su cui stiamo dibattendo da mesi. Beh, Antenucci, forse c'era anche un po' di nervosismo per la sua prestazione, secondo me, sa, ti non l'hai ben reso. Sperai di vedere, non dico l'Antenucci pre-ritorno di Di Carlo, però sono consapevole di aver fatto una partita non sufficiente, Sabato, Antenucci, anche all'inizio partiva sempre, subito due fuorigioco, mentalmente, secondo me, influisce. Su Maestro, è sempre quella domanda, io continuo a pensare che debba giocare vicino agli attaccanti, perché quante volte è successo che, contropiedi, lui corre, blocca il ritmo dell'azione, si allarga, fa quel dribbling di troppo che dopo magari manda in malore un contropiede, e sappiamo quanto alla spalla vi ha fatto fatica a segnare quest'anno anche, pertanto, occasioni perse, secondo me farlo giocare più vicino alle punte, secondo me sarebbe una cosa di là, perché appunto il tiro ce l'ha, e poi quello che dicevamo prima, sarebbe più concretezza che il tocco di fino che lui spesso ci prova, però quest'anno purtroppo anche da quel punto di vista lì ha fatto fatica. Su Maestro tengo a sottolineare questo, che la sensazione che si ha dall'esterno, e che poi Di Carlo gli dia la possibilità di accentrarsi, ovvero di partire largo, perché giocando con questo modulo, molte scelte sono anche forzate, vista la composizione della rosa, però ha licenza poi di accentrarsi da sinistra, per andare poi alla conclusione con il destro, non è che, soprattutto in fase di possesso, di Carlo Dica Maestro, no, devi stare largo, anche perché Maestro poi non ha le qualità per andare sul fondo, ha bisogno di muoversi per forza. Una delle sue migliori caratteristiche, può essere più di dal monte, questa, di andare sul fondo e cercare poi i compagni al centro dell'area. Per quanto riguarda Antenucci, io so che adesso molti non convideranno questa mia affermazione, ricordiamo sempre l'età di Antenucci, che ha compiuto 39 anni a settembre, per cui, secondo me, di Carlo, considerando l'importanza che ha il capitano nel contesto delle partite, in particolar modo in questa fase della stagione, quando ci si gioca tutto, ha anche il timore di perderlo, perché qui chiama in causa sia Massimiliano che Franco, un atleta alle soglie dei 40 anni si può ritrovare poi spendendo tantissimo con dei problemi di carattere muscolare, oltretutto, è una realtà, poi tocchiamo ferro, non voglio mica portare male, se poi capita una problematica di questo genere, anche se Antenucci sa fare a gestirsi, perché lo si vede in alcune circostanze, rallenta, non va in profondità, evita lo scatto prolungato, ma se gli si crea un problemino a un muscolo, il recupero alla sua età non è così veloce come quello di un ragazzo di 20 anni? A questo sicuramente, contro l'età non ci si può andare, quindi lui è bravo a gestirsi, perché è un ragazzo serio, che si allena e si sa gestire, però ovviamente bisogna conservarlo, bisogna fare in modo che non abbia problemi di questo tipo, io credo che l'allenatore sta facendo tutto quello che deve fare per mantenerlo in salute e in forma, e tra l'altro Antenucci è comunque un giocatore che può fare la differenza, che fa la differenza in una squadra come la Spal, non si può permettere in questo momento di perderlo, quindi fa bene lui, in certe fasi della partita, che poi ha giocato quasi tutta la partita, a tirarlo fuori, perché nel momento in cui è stanco si può fare più male. Franco? Sì, ma secondo me si sta facendo un discorso su nulla, si può anche dire che ragione anche lui quando dice forse non era contento della sua prestazione, ha avuto questo gesto istintivo, ha tirato una maglia, ma io credo che la cosa sia iniziata lì, No, non ha tirato la maglia, ha avuto un gesto un po' di stizza. Sì, ha fatto un gesto, si è visto quando l'ha cambiato, ma non ha fatto da te, io credo che la cosa sia iniziata lì, finita lì. Anche perché so, esiste le grandissime reciproche stime a Antenucci e di Carlo. Sì, ma adesso io questo non so, però ti medesimi nel fatto che lui ha il nome più importante della Spal dove la gente pretende molto da lui, ma lui sta facendo anche quello che non ha fatto quando era più giovane, che lui sta facendo la prima punta, che non ha mai fatto la prima punta a giocare sempre sterno, cioè anche una cosa che non ha mai fatto, ecco. Però ha fatto un gesto, ma io credo che la cosa, se il gesto sia finito lì, ecco, non abbia portato altri polenzi. Meglio che esca così che a testa bassa, secondo me, da tifoso, meglio che esca a bello carico. Condivido l'opinione di quel tifoso che ha apprezzato il fatto che Antenucci sia uscito recriminando un po', forse anche per la sua prestazione, per l'andamento della partita, mettiamole tutte insieme, queste situazioni, per la sostituzione, dimostrando di tenere, e non poco, alla maglia, come si suol dire, capitano di nome e di fatto. Adesso andiamo in pubblicità, ci rivediamo qui tra pochissimo. Bentornati, Nicolò ci eravamo interrotti prima della pubblicità sul tema Contigliano, quindi ripartiamo da qui. Sì, Contigliano è un altro elemento un po' difficile a definire quest'anno, secondo me. L'anno scorso ha portato l'infa vitale in un gruppo allo sbando, secondo me, è entrato, ha portato un po' con la freschezza, con la voglia di correre, elementi che secondo me sono stati anche quest'anno, perché quando entra è uno che suda la maglia, ce l'ha proprio cucita addosso la maglia della Spal Contigliano, da sempre il 110%, per farlo uscire dal campo, deve essere proprio stremato. Quest'anno, sempre con i problemi del centro campo della Spal, secondo me, non si è espresso al meglio, sia per questo, sia perché ha fatto fatica, forse per aver bruciato un po' le tappe, essere andato subito in Serie B, sceso in Serie C, dove richiesto magari più, dare una botta in più, che fare una giocata di qualità, secondo me, ha un po' subito anche questo fatto, non codivato poi dal resto del gruppo, poi ha avuto anche degli infortuni, non ha avuto continuità, quindi per una stagione per ora, secondo me, è più negativa che positiva, speriamo che questo scorso di campionato riesca a dare su contributo perché ce n'è bisogno, soprattutto di corsa, di aggressività, ce n'è assolutamente bisogno. Dobbiamo ricordare come è partita la stagione di Contigliano, che era destinato a un ruolo titolare con molte probabilità, quell'infortunio al ginocchio, a Budrio, che si era temuto anche il peggio, è rimasto fermo un mese, poi è rientrato, è stata un'annata un po' maledetta per lui perché anche una serie di malattie non ultima, quella che lo ha relegato in panchina con la Carrarese, molto probabilmente sarebbe stata sua la maglia al fianco di Collodelle o al fianco di Nador, invece anche in questo caso è incazza negli ultimi minuti proprio perché fino alle prime ore del mattino mi risulta, era febricitante e così come Zilli. Poi torno dopo sul discorso con Tigliano perché vorrei coinvolgere in merito a Franco, questo ragazzo che caratteristiche ha questo ragazzo? Questo ragazzo qui io stavo qualche partita l'anno scorso fosse fatto meglio rispetto a quest'anno, però quest'anno chi ha di fianco? Vuol dire, un ragazzo che ha iniziato la stagione di 19 anni, buttato prima squadra giustamente perché se è un ragazzo bravo devi giocare, ma chi ha di fianco che gli dà una mano? E lui che deve dare una mano agli altri? Chiede che lo sopporta nell'errore, che lo aiuta nel movimento tattico della partita. Chi c'è lì? C'è qualcuno? Chi è Carraro? Chi è? Corodel? Chi è? Io con supporto. Adesso c'è Booker un po' così, ma chi gli dà una mano? A lui. E' lui che dà una mano agli altri. Ora, sei, sono ragazzi, va bene tutto, che ha corsa, ha temperamento, però... Testa, perché un ragazzo... adesso non lo conosco, però come attesionamento mi sembra che può attesionamento, però questi ragazzi qua, io mi ricordo, parlo della mia esperienza, alle prime partite che ho fatto io, in Serie B, avevo di fianco dei giocatori che dicevano fai questo, fai questo, fai questo, non ti preoccupare, chiedi a me, non avevi paura, qui chi c'è? Punto di domanda? Chi è? Non c'è mica nessuno, che ti ha la mano. Ora, questi ragazzi devono essere anche aiutati in campo, non solo fai delle urla o pretendere che faccia tutto lui. Lui ha certe qualità, temperamento, recupera palla, gioca, poi, mi sembra che sia quello il suo tipo di gioco che fa. Non spetta lui il compito di costruire, di inventare, di accendere, come si dice, la luce. Ora come ora non ce l'ha, crescendo, aumentando anche l'autostipo di fianco, devi sempre avere i giocatori più vecchi che ti diano una mano, che ti danno la loro esperienza dalla persona a te, che ti danno una mano in campo. Ma qui, chi c'è? Massimiliano, Franco parla di esperienza e anche di età, ma a questa squadra secondo me più che l'esperienza fa difetto la personalità. Sicuramente la personalità è fondamentale, però ha ragione anche Franco, ragazzi, l'esperienza non te la regala nessuno e lo dicevo l'altro sera, l'altro giorno con l'incontro di Magnesi che ha detto a decima ripresa ha fatto lo scambio e non lo doveva fare. Ha fatto lo scambio solo e unicamente perché non aveva altro modo per difendersi, perché lui non sa difendersi e quindi ha dovuto fare lo scambio e quello scambio gli è costato il combattimento. Così vale per il pugilato come nel calcio. Cioè l'esperienza non te la può regalare nessuno. Io ti posso raccontare la mia esperienza, ti posso dire, ti posso avvertire su certe cose, però la tua esperienza te la fai tu e se in campo non hai qualcuno che ti dà una mano e che ti insegna, a 19 anni fai fatica a portare avanti da solo una squadra. È naturale ed è logico che sia così perché i ragazzi devono crescere. Tu guarda l'attività nel Bologna da un anno che faceva tutta la panchina perché ha fatto sempre panchina, è entrato e adesso è diventato il numero uno che non si può spostare perché è un fenomeno quel ragazzo però piano piano e va avanti aumenterà sempre la sua esperienza e aumenterà la sua qualità. Questo è naturale, è normale. Poi su Contigliano c'è da aggiungere che non è Contigliano quello che l'abbiamo accennato in precedenza per decollare il gioco della squadra. Lui è un ragazzo, è un giocatore che secondo me potrà arrivare anche più avanti rispetto a quelle che possono essere le sue qualità fisiche e tecniche proprio perché ha la mentalità del calciatore. cioè è un ragazzo è un ragazzo questo lo chiederei a Nicolò che vede spesso un po' riesce a leggere forse queste situazioni anche perché con più continuità segue la squadra è un ragazzo che è più maturo rispetto alla sua età ricordiamo che è un 2004 lo ha dimostrato l'anno scorso quando è stato gettato nella mischia nel finale di campionato d'accordo una partita o due le puoi fare perché non valuti quella che è la situazione poi ti viene addosso il peso delle responsabilità e mi sembra che questo ragazzo quando è entrato in campo si sia sempre assunto le sue responsabilità e soprattutto sia un ragazzo che è capace di stare in campo cioè anche tatticamente fa il fallettino va a coprire va a dare una mano al compagno poi come dice Franco ci deve essere a parte chi lo supporta sotto il profilo dell'esperienza sotto queste piccole cose che sono importanti anche sul fatto di costruire poi il gioco no sicuramente ne parliamo come se fosse uno che gioca in Serie C da dieci anni ma in realtà al primo anno penso che faccia la Serie C perché dalla primavera ti inserisci sta in campo da veterano cioè sa stare in campo da veterano infatti ne parliamo come se fosse normale ma non lo è forse secondo me non è appunto quel giocatore che può accendere la partita sotto il profilo secondo me proprio realizzativo però è quello che può fare la giocata è quello che può ma non adesso come diceva prima perché ha sempre vent'anni non si può aspettare poi è entrato quando ci si lamentava dei ragazzi che hanno giocato nel girone di andata gli orfei i puletto i paravecini ma questi ragazzi che vengono da un settore giovanile perché diversi discorsi franco ad esempio di Prati Prati veniva da una serie D quindi aveva già avuto il modo di maturare poi entra in un meccanismo che non funziona perché sono stati gettati nella mischia quasi obbligatoriamente in un meccanismo che i cui ingranaggi erano pieni di sabbia non erano oliati non c'era olio c'era sabbia l'importanza di un giovane che è buttato da una primavera a una prima squadra che faccio io primavera 2 ricordiamoci per non dire l'under 18 comunque quando tu vai e hai dei giocatori ma giocatori e uomini soprattutto che ti aiutano che ti supportano che ti hanno i suggerimenti giusti che ti dicano bravo anche quando sbagli è quello importante per un ragazzo non si sente non è che ti punta sempre il dito subito addosso hai sbagliato non fare più questo allora così il ragazzino si ferma o se tu hai dei giocatori in campo che ti danno la mano da questo punto di vista sei anche più sereno più tranquillo e tenti con Dio prima anche la giocata anche se adesso è un periodo di campionato che se ti stai salvando forse la rischia anche un po' di meno però se hai questa gente dietro ora puoi anche provare ma qui chi c'è chi è che c'è c'è per trovare un portiere tu ti prendi uno a uno dei tuoi che è nato qui che sta facendo meglio degli altri poi in una situazione in cui la palla scotta quindi mancando come ci hai detto in precedenza quegli elementi di personalità non di maturità ma di personalità alla fine anche il trentenne si intimidisce quando gli arriva il pallone ne fa il compitino perché anche se hai l'esperienza non ti fai niente perché non hai personalità purtroppo questo è quello che manca e quello che forse manca è proprio questo qua togli il forse togli il dubitativo a questa squadra fa difetto la personalità tant'è che al tirare delle somme vedi che Antenucci quello che nonostante non sia più un ragazzino deve cercare di sconare tutta la squadra qualcosa ti sta dando Valentini in difesa purtroppo hai perso un giocatore che sotto questo aspetto si è rilevato importantissimo a prescindere dalle situazioni tecniche e tattiche che è Bassoli e che è ancora fuori andiamo a vedere chi è stato il migliore in campo con l'IT Parade in collaborazione con Exera per il resto del Carlino il migliore in campo è stato un ador giudizio condiviso anche dai colleghi della Nuova Ferrara di Telestense di www.telestense.it di estense.com e dello spallino.com troviamo così in classifica in prima posizione Dal Monte con 24 citazioni a seguire Peda con 22 Valentini con 18 Bastoli con 14 Rao con 11 Anderunce Maestro con 10 e con L'Odel con 9 Franco abbiamo sfiorato prima l'argomento Nador ricordiamo che questo ragazzo è nato in Germania ma è originario perlomeno della famiglia del Togo e compirà 22 anni il 23 giugno vedi in lui un giocatore di prospettive che tipo di giocatore pensi possa essere perché lui aveva iniziato come difensore poi è stato spostato a centro campo ricordiamoci che Fusco quando c'è stata la possibilità ovvero nel momento in cui l'Ancona ha detto il ragazzo non mi interessa più ha deciso di riportarlo a Ferrara poteva anche girarlo in un'altra società dopo l'infortunio di Bertini perché ha detto questo è un ragazzo che ci può far comodo ma se queste caratteristiche ma soprattutto di testa perché se tu da un difessore centrale ti metti davanti la difesa può cambiare un pochino la cosa perché un conto deve avere tutto il campo davanti un conto può essere metà campo un ruolo particolare difficile perché metà campo è un ruolo difficile a me ha fatto una buona impressione di personalità di fisicità non è solo grandi grosso si fa anche sentire perché ci sono tanti che sono grandi grossi ma poi è anche agile per la stanza che ha mi sembra essere agile anche abbastanza ha un passione un po' lungo però mettono avanti rotti e poi non ha paura di giocare ecco io non so cosa potrà fare nella sua carriera sicuramente se fa il salto di qualità e salirà di categoria potrà solo anche migliorare perché giocare con gente più brava migliori che tu questo è fuori dubbio vedi solo avere i compagni che giocano con te anche quelli che giocano contro li vedi insomma giochi contro e migliori automaticamente è chiaro che se vuoi in C come giocatore sarà quella però lui mi è piaciuto per questo motivo la personalità sembrava quasi che avesse solo in faccia quando giocava e quando arrivava si faceva anche sentire poi ha fatto una conclusione in porta che ha calciato una sassata e è piaciuto di poco ecco ha fatto buone cose ha fatto adesso bisogna che continui che gli diano la possibilità di continuare a giocare ecco io penso che sabato a Dancona non solo perché Exma venga confermato anche se rientrerà Buccher mi dispiace per Contigliano con Lodell ma io ci penserei bene prima di togliere Nador con Ador che sia anche in considerazione del fatto che la Spal perso Carraro ben che vada sembra possa rientrare per le ultime due partite quindi per quella con il Pinetto per la trasferta di Olvia dove lo ribadisco dobbiamo andare con l'infradito e gli slipini perché poi a fine aprile si può anche andare a pensare di farsi un bagnetto in Sardegna dicevo perso anche Carraro è l'unico giocatore che ha una certa fisicità nel calcio di oggi conta tanto specialmente nel momento in cui arrivano con i palloni alti avere un giocatore con sia dietro nei corni nel calcio d'angolo a sfavore anche nel calcio d'angolo a favore può andare e andare dentro e farsi valere cioè ha diverse carte da giocare lui mi è piaciuto che anche tecnicamente non mi sia batta mi è sembrato anche buono tecnicamente passaggi giusti al momento giusto ecco se lo toggono secondo me farebbe un errore però Mimmo ascoltaci non pensare di togliere Enador sabato di dividere un'altra possibilità sperando che le cose vadano bene ovvero che si esprima sui livelli di sabato ma lo vogliamo in campo o del Conero anche perché chissà anche che spirito di rivalsa potrà avere nei confronti dell'Ancona ma giocatore con la sua forza fisica in serie C Nicolò è importante? è importantissimo fondamentale ma ripeto è quello che mancava alla Spal perché abbiamo anche la fortuna di avere un giocatore che ha più caratteristiche quindi questo potrebbe permettere anche di giocarsi diversamente le altre carte centrocampo e poi non riconfermarlo sabato secondo me gli toglierebbe anche un po' di fiducia perché secondo me è consapevole di aver giocato bene e se poi non lo fai giocare ancora dice cosa ho sbagliato quindi secondo me non dico che sia scontato però insomma ci penserei due o tre volte prima di non farlo giocare se fosse indicarlo c'è anche l'idea che chi lo ha conosciuto a livello di sette ore e giovanile ne ha parlato molto bene anche come ragazzo come uomo e come personalità per cui infatti è rimasto stupito quando dovevano vedere le amichevoli estive che giocava infatti mi è rimasto un po' stupito di non aver l'ho già visto fare non dico un salto enorme però un saltino in avanti che l'ha andato via perché è un po' che ruota comunque intorno all'orbita spallina lui ha fatto due campionati ha fatto quello di Montevarchi la stagione passata con la trentina di presenze e poi questa quindicina di presenze Ancona quindi secondo me ripeto non riconfermarlo sabato sarebbe un errore se torna Buckel ancora meglio Buckel questa sarà solo una scelta tecnica perché Buckel è recuperato non ci sarà Berlusca Gin c'è qualche dubbio su PED è già rientrato perché anche con l'Under 21 evidentemente i sanitari dell'Under 21 della Polonia hanno ritenuto giusto preservarlo vedremo se potrà essere disponibile Fior Daliso è uscito forse più affaticato che infortunato sul finire della partita con la Caralese quindi è disponibile per cui la difesa è praticamente fatta rientrare i paldelli a sinistra anche se Sayani a me non è dispiaciuto per cui Gringhelli a destra Valentini e Fior Daliso dovrebbero essere i due centrali adesso andiamo in pubblicità ci rivediamo qui tra pochissimo Bentornati Massimiliano bella esperienza in Albania ma quando sei rientrato hai avuto una brutta sorpresa in Albania è stata un'ottima esperienza anche perché ho visto combattimenti molto molto belli molto importanti per quanto mi riguarda direttamente Ram ha fatto un grossissimo combattimento ha battuto un avversario che ha perso l'unico combattimento per squalifica e ha tirato e ha vinto per capò quindi ha fatto un grande combattimento senza rischiare niente essendo sempre in vantaggio purtroppo quando sono tornato ho saputo che sono entrati i radri in palestra e ci hanno rubato tutti i guanti sia quelli nuovi che quelli che dovevo usare per il combattimento anche venerdì quindi mi ha messo un po' in difficoltà perché hanno rubato anche quelli dei direttanti e quelli purtroppo non sono i miei non sono omologati per i direttanti anche se c'è di opera però ho dovuto riprenderli insomma brutte esperienze ma cosa se ne fanno? non lo so non lo capisco neanche io i guanti da pugilato ma no poi soprattutto marchiati sono solo io che li vendo i miei guanti non è che li do in giro ai negozi perché voglio essere io a venderli direttamente e quindi sono facilmente rintracciabili se vengono venduti anche i carabinieri hanno detto ma è un punto molto anomalo e dicono secondo noi li ritrovi dopo il 29 per me è un dispetto che ti hanno fatto prima del Memorial ma può anche essere ma vediamo comunque volevo solo dire che al Memorial è importante che i tifosi vengano anche per i ragazzi e per i direttanti perché ci sono dei direttanti che sanno che stanno crescendo e che hanno delle grandissime prospettive raccontaci un po' di questi ragazzi ma guarda c'è arriva Aldevitt che adesso purtroppo ha avuto un'infilata brutta di incontri che ha fatto incontri anche abbastanza buoni però ha perso ma è un ragazzo che io vorrei portare al professionismo entro un breve tempo e secondo me ha tutte le caratteristiche per poterlo fare c'è Atia che è invece un ragazzino di 18 anni adesso ne compie 19 che viene dalla Tunisia ed ha delle grandissime qualità è un ragazzo che veramente può fare molto molto bene anche lui deve fare ancora che i 4-5 combattimenti poi potrebbe passare al professionista c'è la Rosy Forzano che sta avendo dei risultati ottimi con attraversarie molto più esperte di lei che anche lei mi ha già espresso la voglia di diventare professionista cioè anche fra i ragazzini fra i ragazzi che combattono nei direttanti ci sono delle prospettive molto buone i combattimenti che ci saranno sono molto equilibrati contro una squadra che viene da Genova e credo che valga la pena venire a vedere perché secondo me saranno molto spettacolari Franco e Nicolò abbiamo sferato prima un argomento relativo ai portieri che impressione avete ricavato da queste prestazioni di Cesare Galeotti che ricordiamo è ferrarese sì no no io per quanto capisco i portieri ecco mi ha dato l'ho fatto per le impressioni mi sembra che c'è un ragazzo che dà anche fiducia alla squadra ecco tu hai un portiere che ti dà fiducia che pare il parabile e fa delle partite buone e continue ecco quello è un portiere un portiere che gli devi dare fiducia anche anche in prospettiva io non lo conoscevo come ragazzo come portiere ecco però visto queste 5-6 partite di fila così mi sembra che andrebbero in qualità ecco e coliamo che è un 2002 Nicolò è stata una delle notte migliori in seconda di quest'anno è stata una chiamata giusta quella di Galeotti perché è la fine del Favero arrivato dal miglior portiere della Serie C l'anno scorso e insomma abbiamo visto tutti quello combinato il Favero ha bisogno di cambiare aria secondo me sì 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 quindi del Favero questo ce lo dice anche Riccardo Cervellati che di portieri dovrebbe usare un po' il condizionale essere esperto Alfonso anche lui insomma dar fiducia a questo ragazzo che è anche presente sul campo si vede quando gioca parla comunica ha fatto scoprire un paio di errori bruttini però tutto sommato sabato non ha rischiato poche niente però altre volte ha salvato anche il risultato quindi secondo me è stato è stato coraggioso dargli fiducia che lui sta ripagando e insomma spero anche di essere a posto per l'anno prossimo con un portiere fisso perché ne sono andati due anni tre forse anche ne sono passati tanti di portieri non abbiamo mai avuto un riferimento unico in porta adesso avere una bandiera in porta può aiutare anche per la personalità di cui si parlava prima a proposito di Galeotti un attimo più tranquillino perché è arrivata la quarta munizione per cui per lui è scattata la diffida così come per Collodelle che va a raggiungere Maisto e Arena Arena sta recuperando dopo un gravissimo infortunio rimediato nella trasferta di Arezzo ed è probabile che potremo rivedere il ragazzo durante la preparazione estiva vorrei intanto rivolgere un caroroso saluto e abbraccio ad Andrea Polconieri che in settimana ha perso il papà quindi oggi doverosamente giustamente si è preso una giornata di riposo sappiamo quanto sia traumatico perdere un genitore tra l'altro Andrea era molto molto legato alla sua pa ciao Andrea grazie per quello che fai anche per noi e per tutti i ferraresi perché oggi vorremmo essere noi portare a te un sorriso così come tu riesci sempre anche nei momenti più difficili più delicati far sorridere tutti noi ciao Andrea adesso in visto della partita contro l'Ancona abbiamo sentito Peppe Gallozzi del Corriere Adriatico ciao Peppe che aria tira non molto bella presumo ad Ancona è una rientenza Alessandro una rientenza che fa capire un po' le difficoltà che sta vivendo la squadra la sconfitta di Recanati è stata una sconfitta pesante tante scorie tante contestazioni il fatto che sia il direttore sportivo Francesco Micciola e l'allenatore Gianluca Colavito abbiano concluso la propria avventura nel L'Ancona proprio qualche giorno fa appunto tutti e due fa capire insomma come le cose stiano andando stiano andando male fuori dai piani Micciola dimissionario Colavito no Colavito è stato esonerato dalla società domenica pomeriggio L'Ancona è in difficoltà è in grossissima difficoltà anche se ad oggi la classifica dice che la squadra è salva per il discorso del distacco sulla penultima non è un bel momento qua ad Ancona la vittoria intrasperta manca da tantissimo tempo la squadra è in difficoltà insomma abbiamo abbiamo vissuto settimane migliori l'ufficialità del nuovo tecnico sì assolutamente assolutamente perché da proprio qualche minuto L'Ancona ha ufficializzato l'arrivo di Roberto Boscaglia sulla panchina ha contratto fino a fine stagione rinnovo automatico in caso di salvezza si affida all'esperienza dell'ex tecnico di Trapani Entella Palermo Brescia Novara tra le altre insomma questa è stata la la scelta Boscaglia ha superato nel involata i suoi pretendenti uno i suoi contendenti uno immagino che lo conosciate molto bene è Roberto Venturato ex allenatore della SPAL e c'era stata anche l'ipotesi di Luciano Foschi ma Luciano Foschi resta sotto contratto con il Lecco quindi sarà lui a guidare l'Ancona già oggi ha diretto il primo allenamento sarà presentato alla stampa e sarà lui insomma a guidare la squadra già da sabato contro la SPAL Quanto è deluso l'ambiente c'è Ancona soprattutto dopo i proclami del presidente Tony Tiong che aveva parlato addirittura se non mi sbaglio di Serie A tantissimo tantissimo perché insomma nessuno si poteva immaginare una situazione di questo tipo Tony Tiong manca in città da tantissimo tempo peraltro è ancora aperto il discorso legato al centro sportivo che è in stand by da nove mesi quindi manca soltanto un'ultima firma ma questa firma ancora è slittata in avanti è un ambiente deluso è un ambiente che è consapevole che dalla salvezza di quest'anno passa un po' tutto perché passa anche un po' un discorso legato al futuro ai tanti progetti che ci sono quindi è un ambiente deluso ma è un ambiente che comunque è sempre rimasto vicino alla squadra ha tante presenze soprattutto in trasferta quindi da questo punto di vista non c'è poco da dire Cosa non è andato per il verso giusto per lo meno come ci si aspettava perché Lancona era stata inserita nel gruppo delle outsider per lo meno così come la spalla era una delle squadre che si pensava si potesse tranquillamente assestare in zona playoff No, una squadra costruita male una squadra costruita male in estate una squadra che si è verificata che si è dimostrata insomma non adatta al proprio compito ci sono responsabilità da parte di tutta l'area tecnica quindi condivise e le gestioni fino adesso di Donadella e di Colavitto non sono state assolutamente adeguate tante colpe le ha anche il direttore sportivo Francesco Micciola in serie di costruzione ne ha tantissime il supervisore dell'area tecnica Roberto Ripa che è scomparso un po' dai radar da tempo in memore guarda sono colpe condivise tra tutti è chiaro che adesso la squadra con il nuovo mister dovranno essere bravi a fare quadrato e a venire fuori però credo che fino a questo momento siano emersi tanti limiti soprattutto caratteriali di questa rosa allestita C'è il peggio un certo nervosismo lo dimostra la doppia espulsione di Clemente e Cioffi che ovviamente non saranno a disposizione del nuovo tecnico sabato rientrerà invece Sacco? Sì sì rientrerà dalla nazionale con il Sacco sarà a disposizione da domani probabilmente e per il resto non dovrebbero esserci altre defezioni mancheranno come dicevi giustamente Cioffi e Clemente che hanno rimediato le ingenue espulsioni di Re Canati soprattutto quella di Cioffi Ovviamente il nuovo tecnico non ha ancora parlato ma vi aspettate una sorta di rivoluzione oppure visto che mancano appena cinque giornate alla conclusione del campionato si andrà avanti sulla vecchia strada? No ci aspettiamo sicuramente a livello tattico qualche cambiamento perché il nuovo tecnico predilige il 4-3-3 4-3-1-2 insomma chiamiamolo un po' come come preferiamo però sicuramente a livello tattico si tornerà in quel tipo di sistema ritorneranno dei giocatori che fino a questo momento sono stati fuori come Paolucci senza dubbio io penso che possa essere un'ancona comunque diversa da quella che eravamo abituati a vedere una sorta di spareggio per il quintultimo posto che evitare il quintultimo posto anche se come hai detto tu in precedenza anche questo posizionamento in classifica è molto probabile garantisca ugualmente la salvezza quindi garantisca di evitare la retrocessione beh sì penso proprio che sia una sorta di ultima chiamata per superare la zona play out anche perché il Sestri ha preso un distacco importante sarà partita vera sarà partita vera sul campo partita in cui le due squadre dovranno cercare la vittoria nonostante la grande amicizia che lega le tifoserie 40 anni di gemellaggio insomma faranno da contraltare alla battaglia che ci sarà sul campo è l'unico dato confortante in vista di questa partita beh sì sicuramente lo spettacolo sugli spalti ci sarà sarà come al solito emozionante come lo è stato anche all'andata al Paolo Mazza che vinca il migliore a questo punto tornando alla situazione venutasi a creare dopo la sconfitta di Recanati i tifosi non l'hanno presa molto bene tant'è che hanno accolto la squadra non nel migliore dei modi ci fermiamo qui no no assolutamente lo hanno contestata sia al Tubaldi sia al ritorno sia al ritorno ad Ancona in Pullman insomma dura dura contestazione contestati anche il PS Micciola il mister Colavitto all'interno già dello stadio momento difficile però questo cambiamento può dare uno scossone può ricompattare l'ambiente sono convinto di questo situazione difficile quindi vista questa gara dall'ottica ferrarece dall'ottica bianco-azzurra beh sì sarà una partita comunque difficile per entrambe le squadre la SPAL forse ha un po' più di esperienza in questo contesto sono due squadre in difficoltà sono due squadre che devono dimostrare saper battagliare per venire fuori da questo per tenersi le sabbie mobili lontane perché poi dopo c'è sempre quel vecchio detto che dice vincere aiuta a vincere ma perdere aiuta a perdere quindi bisogna stare molto attenti soprattutto in questa fase di campionato quindi Peppe non possiamo nascondere l'attesa per questo definiamolo tra virgolette e spareggio ci diamo appuntamento sabato del Conero grazie per la tua disponibilità buona giornata grazie a voi è sempre un piacere sempre un piacere un saluto a tutti quanti e ci vediamo al De Conero Franco Cambiente pensi che si possa trovare ad Ancona tu che la conosci bene dato che ci hai giocato sì ma io ci ho giocato più di 36 anni fa perciò il calcio è cambiato la città è cambiata quando si giocavano però al passetto al Dorico si giocava al Dorico giocavamo al Dorico era un stadio vecchio però era era intimo era come la Piani di Pado erano vecchi però i stadi i stadi da calcio i stadi da calcio che avevano un animo diciamo così ecco come il Massa oggi perché il Massa è uno stadio il nostro è diventato secondo me uno dei più pesati d'Italia calcisticamente parlando noi in Italia abbiamo dei brutti che fanno c'è una roba da terzo mondo ecco una roba calcistica però non so adesso com'è l'ambiente quando c'ero io era carico c'era c'era un bel tifo lo stadio era sempre pieno adesso non so la gente forse è cambiata qualcosina lì Nicolò a ritorno da Recanati sono volati dei sassi verso il punto dei giocatori dell'Ancona sì diciamo che il clima sicuramente non è dei migliori per loro speriamo non sia la partita da rinascita perché quest'anno abbiamo risuscitato abbastanza squadra possiamo dirlo anche forse l'anno scorso qualcosina quindi chiaro mi viene in mente un commento che leggevo sui social qualche un paio di settimane fa dicevano speriamo non sia uno scontro fratricida non penso che lo sia in questo momento però che non lo diventi poi nelle prossime settimane ripensando a questa partita quindi è un peccato dover giocare questa partita secondo me in questo momento della stagione però insomma la situazione ancora non è bella giocheranno sicuramente col coltello tra i denti al di là dei gemellaggi dello spettacolo sugli spalti mi aspetto che la spalla faccia lo stesso ma come si affrontano partiti di questo tipo dove ci si gioca tutto quasi visto che tu segui i tuoi ragazzi durante la preparazione ma in particolar modo dall'angolo dove lo vedo lo vedo ormai da anni quanto si soffre quanto può essere determinante il vostro aiuto ma noi siamo diciamo siamo abituati perché noi ogni combattimento per noi è una battaglia esatto e ci giochiamo tanto quindi per noi è anche un'abitudine è chiaro che per chi non è abituato diventa pesante perché le responsabilità aumentano enormemente per ognuno dei giocatori in campo io credo che ci siano anche comunque gli stimoli per poter dare tutto e si deve dare tutto e tirar fuori quella personalità che magari è mancata fino adesso perché in uno scontro quando trovi una squadra che è al tuo livello perché l'ancone a livello della SPAL non è sicuramente superiore per me è inferiore probabilmente sì con la osa di oggi la SPAL probabilmente sì però hai capito sicuramente hanno avuto il cambio di allenatore avranno degli stimoli un po' diversi bisogna saperli mettere in difficoltà e comunque fargli paura perché se tu gli fai paura sicuramente la partita si può si può anche vincere quindi minimo ci vuole il pareggio non bisogna perdere Franco quanto sarà importante l'approccio alla fase iniziale di questa partita perché per me è qui che si decide tutto può decidersi tanto ma guarda da parte l'approccio sicuramente una partita di tensione quello è fuori dubbio però deve essere una tensione positiva non devi andare in campo oddio ho paura di giocare oddio ho paura della gente anche perché tu hai due punti più eh sì punto ecco però devi andare in campo con la tensione giusta ora se hai la tensione giusta hai anche l'atteggiamento giusto poi il campo lì è grande la gente è lontana non lo sentimi anche ecco se hai paura di fare queste partite chiaramente non so che partite devi fare ecco sono partite che capitano mi è capitato anche a me di farlo però devi avere a consigliare la prima quella tensione che ti porta la personalità ora lì lì è importante sono partite importantissime quando parlavo di personalità parlavo anche di questo di aiuto ai compagni di capire anche quando un tuo compagno possa anche sbagliare prevenire quello ci sono tanti fattori da mettere in campo ed essere veramente pragmatici quando difendi lì devi essere veramente così come un tedesco non puoi non puoi pensare di fare i giochini con il portiere toccare con la palla a piedi e di andare fuori così no devi essere proprio così lineare semplici nelle giocate che semmai butti la palla lunga e accorti in avanti e poi vai su una seconda parte per cercare di prendere visto che è davanti adesso hai due hai due stati importanti sia Petro che Zilli no? Zilli un ringhanno si 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 poi c'è Antenucci che se gli arriva la palla sui piedi sa come gestirla hanno giocatori che possono farne male da questo punto di vista ecco è quello deve avere la tensione ma la tensione giusta non tensione da paura Nicolò giusta tensione determinazione carica e come si dice spesso in questi tangenti ma è la realtà sono partite in cui serve la sciabola il fioretto lo si può usare eventualmente cammin facendo quando il fattore tecnico che per me è superiore quello su cui può contare la spada rispetto a quello su cui può fare affidamento l'Ancona potrebbe prendere il soccavento ma qui parliamo degli ultimi 15-20 minuti sì sì certo quest'anno abbiamo visto fin dall'inizio della stagione squadre avversari anche tecnicamente inferiore non ha regalato niente dal punto di vista fisico se c'era da dare il calcio lo davano non c'era fermare contropiede non si facciano scruppoli quindi forse questa cosa che la spada sta imparando adesso scendere di categoria non vuol dire per forza dominare con la tecnica e quest'anno lo stiamo vedendo quindi tensione serve a meno che tu non sia totalmente superiore all'avversario ma non è questo il caso la tensione ti serve per l'adrenalina in più per dare il massimo secondo me tensione ovviamente positiva quindi sì coltello tra i denti concretezza tanta concretezza ripeto se c'è bisogno di dare una spinta un calcio in più bisogna darlo lo si deve fare dando velocemente uno sguardo ai calendari praticamente non ci sono scontri diretti se si fa eccezione Ancona a spalle diremo che più o meno sono calendari simili quelli con cui si devono confrontare soprattutto Ancona con 34 punti e Ricanatese a 33 perché con la vittoria sull'Ancona la Ricanatese è tornata in corsa e logicamente la SPAL che ne ha 36 velocissimamente ricordiamo la SPAL giocherà ad Ancona riceverà il Gubbio giocherà a Chiavari riceverà il Pineto e concluderà il suo cammino a Olbia Momo in chiusura ricordiamo l'appuntamento di venerdì a partire da che ora Palapalestra Palacaneparo dico bene dove avete la vostra sede esatto partiremo alle ore 18 con 7 incontri direttantistici più l'incontro professionistico femminile poi dopo avremo un'ora di pausa dalle ore 20 alle 21 e alle ore 21 partiremo con altri 5 incontri professionistici più o meno la serata che finirà verso le 23.30 quelli sono i tempi tutto sarà ripreso dalla televisione nazionale perché la memoria è diventato non solo una diciamo un culto a livello ferrarese perché ormai 23 anni non è facile portare avanti una manifestazione esatto non è facile portare avanti la manifestazione ma anche a livello nazionale abbiamo acquistato molto molto interesse e tanta gente viene anche da fuori a vedere i combattimenti quindi diventa veramente fondamentale l'aiuto dei tifosi con la loro presenza dentro a pala per essere perché per noi è importante anche a livello economico che ci sia tanta gente e anche in prospettiva perché c'è le cose proseguono anche perché ti dico dopo io dovrò avere il combattimento l'europeo il bf con il ramo che lo faremo a Torino poi dopo faremo il combattimento con Ferrara abbiamo il combattimento di Obahit che deve fare il titolo italiano molto probabilmente lo porterò a Ferrara perché ho intenzione di fare un'asta molto alta ci sono altri ragazzi che hanno tante prospettive e chiaramente abbiamo bisogno di soldi perché senza soldi non si fa niente purtroppo è così è importante spenderli bene chi vuole capire capisca noi facciamo tanti auguri di buona Pasqua e ci rivediamo qui lunedì 8 aprile dopo Spalgubbio la prossima settimana invece rimanremo fermi ringraziamo i nostri ospiti per essere stati qui con noi questa sera e tutti voi per averci seguito buona serata e buona Pasqua a tutti speriamo buona Pasqua grazie a tutti